ciao a tutti in questo video voglio parlare di correttori chi mi segue sia qui che sul canale smr sa che negli ultimi mesi mi sono flashata con i correttori ho fatto dei pastrocchi allucinanti e molte di voi mi hanno gentilmente carinamente dato dei consigli ma in questo video vi prometto non impasticcerò non mescolerò poco mescolerò molto poco e non farò un get ready with me ma proverò soltanto questi correttori allora nel frattempo mi sono fatta un po una mia idea i correttori diciamo veri e propri sono questi che vi mostrerò poi ho anche preso non ho buttato via i soldi questa palettina della essence che si chiama mixing zone e sono praticamente dei prodottini cremosi che possono essere usati sia come ombretto che come rossetto che come blush e siccome aveva questi colorini qua aranciati e io non sono riuscita a trovare un correttore abbastanza coprente arancio oppure come l'ho anche trovato ma costava troppo online e allora quando ho visto questa qui ho detto vabbè la voglio provare era super scontata insomma vabbè ho detto provo a usare questi colori qua aranciati per darli sotto gli altri correttori che già avevo ma cominciamo allora prima di tutto vi parlo di ci restiamo con la faccia che diventa gialla vi prego se qualcuna di voi sa perché con questo sfondo dietro la ring praticamente a seconda di come mi muovo divento gialla per favore aiutatemi datemi un consiglio anche tecnico su questo se c'è qualche qualche accorgimento per evitare questo giallume allora il primo di cui vi voglio parlare è questo questo è il correttore giallo della avon mark è in stick allora questo se avete le occhiaie con la pelle matura scordatevelo perché è molto pastoso si infila nelle pieghe io questo lo uso come illuminante tipo ora mi sono andata a rossetto premetto sulla faccia ho solo la crema idratante idratante quella idratante bella polposa per gente della mia età allora dicevo mi sono data solo il rossetto e quindi ho fatto un po di danno questa qui io la uso così scusate ma mi sto truccando non con uno specchio ma con lo schermo del cellulare quindi l'effetto è un po diciamo che questo la uso per illuminare l'arco di cupido prima del fondotinta oppure tipo qua per fare un po di punto luce sul naso ovviamente mi guardate con gli occhi storti perché vi ripeto mi sto specchiando nel cellulare sempre prima del fondotinta oppure anche qua nell'angolo interno degli occhi per fare un po di punto luce appunto prima del fondotinta e quindi ho anche qua e lo uso così ecco quindi questo qui io lo uso in questo modo se magari avete una pelle molto giovane però essendo giallino e avete le occhiale le occhiaie violacee potete usarlo qui effettivamente per dove è nato però insomma io lo uso per questi motivi qua poi un altro correttore è questo qui di Avon è il correttore stick Avon Lux questo ha una coprenza medio alta anche se secondo me non è coprente quanto lo stick Avon True dei correttori Avon secondo me lo stick della linea Avon True è quello più coprente in assoluto e me ne è rimasto soltanto uno però è nella casa estiva perché è di una tonalità più scura e quindi lo uso in estate non me lo sono portato qua allora questo qua vedete abbastanza chiaro io lo uso sia per coprire le macchie vedete ho questa macchia purtroppo dovuta a esposizioni ovviamente di vecchiaia però è dovuta ad esposizioni assurde al sole senza protezione quindi ragazzi sempre protezione perché se no poi vengono ste macchie allora però questo qui io ve lo volevo far vedere anche proprio sotto l'occhiaia l'ho provato l'altro giorno e essendo questo qui proprio della linea per pelli mature è della linea anti age cioè la linea lux è tutta una linea che va bene anche per le pelli mature ora voi mi direte usa la spugnetta e avete ragione però siccome questo video è un video abbastanza improvvisato è molto easy mi sono portata poche cose qui nello studio dove sto registrando allora vedete è abbastanza coprente l'ho preso di una tonalità vedete la differenza comunque un pochino rispetto a qua poi ce l'ho dato una cosa giusta non volevo esagerare allora vediamo se mette a fuoco ora la qualità della fotocamera frontale non è eccelsa però ne volevo vedere ok ne ridò un altro pochino e vi faccio vedere la differenza con l'altro che ho della che ho comprato perché tutti mi avete detto è bello è bello è bello funziona bene non va nelle pieghette quindi l'ho voluto provare voglio farvi vedere la differenza con quello della Maybelline allora questo qua perché in tante appunto mi avete ne avete parlato molto bene in effetti anche questo è molto coprente questo qua la sua spugnetta scusate ma in questo periodo non sto facendo nemmeno video ASMR perché c'è qui d'intorno casa praticamente è tutto un cantiere in ogni palazzo stanno facendo lavori quindi chiacchierano al fan di tutte ma beh e infatti meno male che io i video ASMR ne avevo fatti tanti e quindi ce l'ho programmati per un bel po' perché tanto prevedevo che ci sarebbero stati dei problemi per registrare allora vedete ecco questo di qua di qua c'è il Maybelline e di qua c'è l'Avon Lux con questa visione della videocamera più o meno sembra che si equivalgano oppure ditemi voi se vedete differenza allora un altro correttore l'unica cosa che mi sono portata mi sono portata la spugnetta con lo struccante per per togliere questo e farvi vedere poi l'altro quindi non mi brontolate per come mi strucco perché lo so che non dovrei strusciare però guardate sono delicata delicata lo sto facendo in modo molto molto leggero sono leggerissimo allora ecco io uso questo come struccante per occhi che è molto delicato in effetti allora l'altro correttore che ho preso del quale invece non sono rimasta soddisfatta mentre questi altri meno male li uso questi qui mi piacciono tutti questo qua forse ha una coprenza più immediata non lo so però anche questo sinceramente mi piace quindi penso che entrambi sono suscettibili di essere ricomprati una volta finiti devo vedere le tonalità questo non credo che lo ricomprerò comunque dura questo invece non sono rimasta contenta perché ho preso questo col pennellino della Enew che è proprio un correttore ristrutturante anti età però questo qui mi fa i granellini sinceramente non sono contenta dell'effetto che fa è di quelli più illuminanti andrebbe dato o da solo forse non lo so però già anche da solo secondo me fa del ora non so se voi lo vedete però vedete già che non si stende bene secondo me anche se voi mi dite ah ma devi usare la Beauty Blender ok però anche prima non ho usato la Beauty Blender ma l'effetto era buono invece vedete questo è più illuminante sì è vero però non è coprente per niente vedete e fa questo effetto si si divide non mi piace è difficile da usare secondo me è difficile da usare mi dispiace perché confidavo pensavo che fosse un po' tipo quello di Yves Saint Laurent eccetera eccetera ora quello di Yves Saint Laurent non l'ho provato eh ragazzi però non mi non mi ha non mi ha soddisfatta sinceramente anche da dire ah guarda me lo do da solo anche senza trucco così però vedete anche dato così semplicemente senza niente non copre non illumina non fa nulla quindi cioè praticamente inutile per me eh per la mia pelle quindi fatemi sapere se invece qualcuna di voi l'ha provato e lo usa ma veniamo agli esperimenti allora con queste io queste le ho prese appunto come vi ho detto per il discorso della correzione del colore vedete perché ci sono questi colori più aranciati e ora io ho questo pennellino qua del per il fondotinta che è infimo cioè è veramente schifoso è di quelli cinesi da da due bici mentre gli altri mi ci sto trovando abbastanza bene quelli per per il blush per per sfumare eccetera eccetera però questo qui perde i peli però ecco io questi qui li avevo presi per provare proprio la correzione del colore dell'occhiaia da dare sotto l'altro allora questo è un color è un aranciato che va un po' a correggere le occhiaie ora le mie occhiaie non sono né viola viola né marroncine quindi si fa male perché però ecco qua ho messo questo sotto per correggere un po' il colore ora poi c'è anche quello giallo voglio provare la differenza sull'altro occhio qui c'è il correttore proprio giallo cioè correttore sarebbe un boh come l'ho detto prima è un ombretto funziona un po' per tutto vediamo un po' tanto sentite le martellate allora vediamo un po' cosa succede vedete poi c'è anche il verde che è per correggere volendo i rossori però è un verde talmente acceso che ovviamente questo qui è stato pensato come ombretto quindi non più che altro ho preso proprio per queste cialdine quassù aranciate per provarle come correttore ecco vediamo un po' vedete allora adesso queste qua voglio provare a darci sopra il correttore Maybelline solo che adesso io questo correttore Maybelline poverino se lo uso sulla spugnetta mi simpatacca la spugnetta del colore che ho già messo quindi vediamo un po' se riesco a farne venire abbastanza sulla mano eccolo è uscito e provo con il dito ad applicarlo vabbè la passo un po' anche sulla palpebra dunque vediamo un po' ovviamente uso questo qua in crema perché lo vado a mescolare meglio con la base sotto non mi va di usare lo stick Avon per impastrocchiare con quest'altro eh allora non ci sto vedendo niente cioè la qualità della ripresa forse è troppo bassa per vedere una differenza allora ditemi se vedete differenza fra le due parti fra quella con l'arancio e quella con il giallo diciamo che a me una grande differenza non sembra di vederla anche se forse ho una lievissima preferenza per l'aranciato ora ovviamente dovrei dare un po' di un po' di fondotinta anche altrove perché qua questo non è fondotinta chiaramente ma è sempre correttore ah ecco il colore il deluxe ho usato il light e questo qui della Maybelline instant anti age è il sand lo 07 che è molto chiaro è molto chiaro però in un'ottica poi di usare un fondotinta chiaro vabbè quindi ecco diciamo che l'esperimento è giunto al termine fatemi sapere cosa ne pensate e niente io vi do appuntamento ad un altro video e vi ringrazio perché il canale sta crescendo e vi ringrazio del vostro affetto quindi grazie 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 ciao a presto grazie